Le patate fanno malissimo. Hanno la solanina che è una sostanza tossica per il nostro organismo. È vero? Le patate, oltre ad essere una fonte incredibile di amido, chiaramente, hanno anche molto potassio. Le catechine, quelle del tè verde, l'acido clorogenico, quello del caffè, aiutano ad aumentare il senso di sazietà e possono ridurre l'incidenza di malattie cardiovascolari. È vero però che contengono, specialmente nei germogli e anche un po' nella buccia, questi glicoalcaloidi che sono tossici per l'essere umano. Per eliminare qualsiasi rischio di tossicità dalle patate basta sicuramente eliminare i germogli e sbucciarle. Un altro trucco è quello di mangiare le patate fredde oppure di riscaldarle dopo averle raffreddate per abbassare il loro indice glicemico. Salute!